Ciccone, hai analizzato un po' la prestazione di ieri? Cosa ti è successo in quei 5 km finali? Ieri non sono stati soli 5 km, ma ho avuto sensazioni negative tutto il giorno. Semplicemente il corridore più in forma, il corridore che va più forte, l'ha dimostrato dal primo giorno. E' semplicemente perché lui è molto abile sugli sterrati, l'aveva già dimostrato alle strade bianche, l'aveva dimostrato qualche giorno fa a Campo Felice. E quindi con un'ottima condizione, un'ottima abilità, una grandissima squadra che lo supporto ovunque, era assolutamente il favorito numero uno. E' giusto così, quando vai, quando stai bene, è anche bello, è anche rispettoso verso la corsa, non fermarsi mai e dare spettacolo sempre.